Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa nuova avventura guardate lì giù chi c'è tiffany si è proprio lei con un outfit un po diverso gli abbiamo aggiunto due borse anteriori poi gli sono cresciuti anche i capelli biondi ed è pronta a carica per questa nuova esperienza esperienza che mi porterà sulle colline e sui monti dell'umbria e delle marche qui sono proprio all'inizio dell'umbria lì giù c'è orte l'ultimo paese del lazio che ho raggiunto tramite treni da napoli sarà un po faticosa ma sono carico dai dopo 15 chilometri ecco la prima tappa alle mole di narni guardate che meraviglia come vedete si tratta di una piscina naturale color turchese circondata da tanta vegetazione è meravigliosa il tutto a ridosso delle gole del fiume nero infatti adesso percorrerò la pista ciclabile che costeggia il fiume sono contento perché come l'impatto è più che buono la temperatura dell'acqua non supera mai i 15 gradi quindi è piacevolissimo tuffarsi soprattutto in estate solamente che questo posto non è molto sicuro perché c'è un pericolo di inondazione da un momento all'altro potrebbero aprire la diga idroelettrica che si trova qui vicino quindi attenzione ecco questa è la pista ciclabile che sto per percorrere inizia proprio da qui dalle mole di narni passa per sifone arriva fino alla ponte d'augusto sono quattro chilometri in pianeggiante un itinerario naturale di estrema bellezza ma avete visto il paesino di stifone quanto è caratteristico ho letto su internet che ci sono pressa poco 41 abitanti tranquillità assoluta tra le montagne il fiume il colore dell'acqua è molto imbitante però mi ha detto che è molto fredda oramai mi sono spogliato si tocca benvenuti nella città di terni anche qui c'è una bella pista ciclabile sono qui perché nei dintorni a otto chilometri si trovano le cascate delle marmore già ci sono stato due volte ma ci voglio ritornare sono fantastiche ci voleva un po' d'aria e d'acqua fresca guardate che incanto sono fantastiche o no la cascata delle marmore è una cascata a flusso controllato la portata d'acqua non è sempre così ci sono degli orari in cui aprono ed esce fuori tutto ciò è una delle cascate più alte d'europa siamo a 165 metri e come vedete è disposta su tre livelli è stata una bella giornata abbastanza intensa avrò percorso un 50 60 chilometri che ne mancano ancora un bel po' intanto vado a recuperare tiffany che l'ho lasciata in custodia un signore molto simpatico che vive qui speriamo ci sia ancora eccolo missione seguente trovare un posto dove dormire questa notte missione 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 ma non non ma non non Dopo una giornata del genere tutto sarebbe stato molto buono. Buongiorno Tiffany, ci sei? C'è, c'è. Allora questa mattina direzione Spoleto. Allora, sono arrivato a Spoleto, un comune in provincia di Perugia con 40.000 abitanti circa. Gli abitanti si chiamano Spoletini, se mi interessa. Comunque, visto che il centro storico è pieno di salite e discese, ho chiesto la cortesia a un albergo. Se mi guardavano Tiffany, hanno accolto serenamente la richiesta. Vediamo un po' cosa ha da offrire questo paese. Come prima cosa troviamo il Duomo di Spoleto, mentre alle sue spalle su quella collina c'è la Rocca, un sistema di fortificazione militare fatta costruire dal Papa Innocenzo VI, così per rendere più evidente l'autorità della chiesa nel centro Italia. in effetti la sua posizione è veramente dominante su tutta la città. Cari amici, allora, vi ricordate quel baldo giovane sbarbato che ho incontrato in Salento? anche lui con la bici, con la sorella maggiore di Tiffany che stava percorrendo il mio stesso giro, però al contrario? Ebbene sì, sta per arrivare qui perché condivideremo insieme alcune esperienze in questi giorni. Sono contento, è una buona persona e lo sto aspettando, dovrebbe arrivare a breve. Eccolo, eccolo, allora, come stai? Non sembra vero? Ve lo ricordate a questo baldo giovane? Ci siamo, ci siamo. Allora, siamo pronti per questa avventura. Allora, io e Max passeremo due giorni in quest'agriturismo, le due querce, che si trova a metà strada tra Spoleto e Norcia. E qui ci sono dei suoi amici che ci faranno entrare nella stalla e ci faranno vedere un po' di produzione propria locale. Buongiorno Max. Buongiorno a te. Sei pronto per questa avventura? Prontissimo. Questa notte ero stato un po', vero? Sì. Quindi ti sei fatto due risate? Sì. Oggi lasceremo Tiffany a parcheggio per chi ci aspetta un'attività di torrentismo. L'avventura consiste nella discesa di piccole gole d'acqua. A differenza di altri sport acquatici il torrentismo si percorre completamente a piedi. sono entusiasta perché è la prima volta per me e mi sa anche per Max. che è un'attività. È un'attività. È un'attività. È un'attività. che è bello. Che è bello. Che è bello. ci siamo buttati da lì su, 30 metri di strapiumbo. e che dirvi ragà le immagini parlano da sole è stata una carica di adrenalina pazzesca dovreste provarla almeno una volta nella vita questa esperienza. Oggi Max ha deciso che sarà di supporto a questa avventura. Infatti ha caricato un po' di borse nella sua macchina e ci incontriremo nel pomeriggio su una piana di Castelluccio di Norcia. Quello che vedete è il piccolo paesino di Norcia con circa 4.000 abitanti. Purtroppo nel 2016 è stato protagonista di un grande sisma e ancora oggi si nota la devastazione. nella basilica quasi distrutta così come le mura medievali. si mangia. altrimenti la salita come la salgo. si mangia. si mangia. si mangia. si mangia. si mangia. si mangia. sono tornata. Chi ca... vai salvatore punto ristoro. ci auscolo pecorino. ci auscolo ci auscolo. e poi c'è anche il dolce questa sì che è libertà dopo tanta fatica ce l'ho fatta dopo il supporto non ti preoccupare è ora di entrare in azione Max sta prendendo la sorella maggiore di Tiffany e faremo una bella passeggiata su questa piana sono contento perché me lo sono guadagnato questo paesaggio la piana di Castelluccio è famosissima per la sua fioritura che accade ogni anno tra maggio, giugno e inizio luglio immaginatevi questa immensa distesa piena zeppa di colori vivaci dovuta alla fioritura di fiori come margherita, papaveri, fiordaliso e varie erbe naturali e ciò è stato un'epoca di caraccia e se accade è il canale di ovvero anche fra la mia persona la prima cosa location perfetta dove piazzare la tenda. Ecco il parco giochi e di fronte a noi questo magnifico panorama. Tasera si dorme sul morbido. Tasera si russa. Anche. Mi piace come ci siamo accampati. Lo chef ha anche allestito la tavola con sgombro, fagioli, pecorino, pane, melone, pesca, pomodori, c'è di tutto. Buongiorno Max. Buongiorno Tiffany. Cari amici viaggiatori, buongiorno. Il risveglio è stato meraviglioso. Avete visto le immagini che parlano da sole. Allora questa prima parte dell'avventura finisce qui. Lì giù quel monte altissimo e il monte vettore che segna il confine tra Umbria e Marche. Quindi lasciamo l'Umbria e io proseguo verso le Marche. Max mi sarà sempre di supporto, almeno spero. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! 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 Ciao!